Ebbene sì, vi avevo detto di preparare la vasellina e spero che voi l'abbiate davvero fatto. L'entrata è stata dura, durissima, sono entrato molto forte come ben avrete sentito dall'ultimo DPCM. Ora permettetemi di dire, non leggo tutte le regioni perché sono troppo lunghe, zona arancia, zona rossa, zona gialla, dico solo questo, vi lamentavate che nei decreti ero confusionari o sentire qualcuno? Non capivo un cazzo. Bene, allora ho deciso di dividerle in zona arancio, rossa e gialla, un po' come all'asilo, colorate dalla propria regione. Non le leggo tutte perché sono troppe, zona gialla le sapete, zona rossa anche zona arancio pure. Posso solamente dirvi di tenere duro, durissimo, perché insieme ce la faremo e ricordatevi la parola magica, andrà tutto bene. Detto questo, posso solamente dirvi una cosa, ciò che è certo è che potrete tornare a cantare sui balconi, purché voi pagheate la SIAE. Ora mi chiedete se possono vedere i congiunti o non congiunti. Ragazzi, per stasera ho già detto troppo, per favore non stressatemi, mi fermo a destra, adesso me ne vado a riposare. Avete preparato la vasella? Mi è dispiaciuto entrare così duro, duro, proprio bam, durissimo. Ma che ne sapete? Magari nei prossimi mesi entrerò ancora più duro. Buonasera italiani.